Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la serie delle 7 con Brawl Stars, signori miei. Nello scorso episodio abbiamo aperto un sacco di Brawl Pass, ne avevamo 3, anche un oggetto gratuito che era una cassa e abbiamo trovato tanti punti di energia. Oggi ci concentriamo, torniamo nuovamente a combattere, signori miei. Ma prima di partire dal video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto su Instagram, dove vi aggiorno sulle live, quando saranno. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni potete farlo con i link che trovate in descrizione al video. Detto questo non perdiamo altro tempo e partiamo subito, signori. Ok ragazzoli, allora noi non abbiamo niente da aprire perché siamo a posto così. Abbiamo però questa nuova modalità che è pezzo grosso, tenuta di caccia, che non so cosa a cosa consista. E vento e gettoni doppia, andiamolo a giocare subito, con il nostro Ben, signori miei. Con il nostro Ben Ben, lo spara palle praticamente, perché detto così non si può sentire. Ok, cerchiamo di capire che dobbiamo fare perché non so. Sconfiggi, porca miseria. Ok, è di gruppo. È di gruppo e che dobbiamo fare? Dobbiamo sconfiggere, mi sa, qualcuno. Uh, è lì, è lì, il messicano pazzo è lì. E sto già morto, com'è che sono morto io? Scusate, mi sono perso qualcosa, perché sono già morto? Sono l'unico a essere morto praticamente, mannaggia. Dove sta il messicano? Dove sta il messicano? Dove sta il messicano? Andate per il messicano pazzo. Perché mi spara a destra? È là il messicano, spara, 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 spara. Dai, dai, dai che lo ammazziamo, dai che lo ammazziamo. Spara, spara, ma ha fatto tantissimo danno. Dai, 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 spara, 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 spara. Dai, super palle. Ho detto così, non è bellissimo. Ho sprecato il corpo dei super cannoni praticamente. Mannaggia, siamo morti. Ma porca miseria. Manca un minuto e dieci e siamo ancora al 47% di vita. Ok. Stiamo calmi, stiamo calmi. Dove sta il messicano? State qua, state qua. Te ciappo, te ciappo, ciappalo, ciappalo. Dai, 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 guardalo, 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 guardalo. Mamma mia, gli siamo andati proprio di faccia. Ci ha ammazzato male. Mancano 52 secondi e siamo messi malissimo, signori. Mancano 52 secondi e siamo messi malissimo. Non so dove sia, non so dove sia il messicano pazzo. Eccolo, 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 l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Sta andando di là, sta andando di là, sta andando di là. Dai, 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 dai. Super colpo, super colpo. Perché non c'è il super colpo? Super colpo, super colpo, dai, dai, dai. Partita conclusa abbiamo vinto Abbiamo vinto Sì abbiamo vinto Bella così Livello 3 Maullo va bene abbiamo vinto Abbiamo battuto il messicano pass Simpatica questa cosa Vince una partita abbiamo vinto Prendiamo 100 teschi E 40 monete in totale Carino carino signori Con 100 teschi noi sblocchiamo il prossimo pass Alla grande alla grande signori Che però andiamo a aprire subito Perché se non ricordo male sono semplicemente delle monete Che ci danno 50 monete d'oro Che non ce ne facciamo assolutamente niente Puntiamo alla cassa noi signori Puntiamo alla cassa Facciamoci un'altra partita di questo pezzo grosso Era pezzo grosso Che mi ha divertito Dai così Che è l'avversario Non conosco questo blur signori miei Non conosco questo blur che abbiamo avversario in questa partita Dai così Dove stai Fatti vedere Fatti vedere Fatti vedere Ai 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 Si è fatto vedere Si è anche fatto sentire Mannaggia Mamma mi ha fatto malissimo Mi ha fatto malissimo Dai 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 che ti faccio male Dai che ti faccio male Fatti vedere Fatti vedere Dove stai? Dove stai? Tizia che fai? Ti nascondi? Fatti vedere Fatti vedere Fatti dagli così Super colpo Super colpo Siamo morto Sono praticamente morto Devo un attimo recuperare vita Raga Devo un attimo recuperare vita Perché siamo messi malissimo Siamo messi malissimo Ok Ok Adesso torniamo a lottare Dai 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 Sono ancora in vita Sono ancora in vita Si sta nascondendo Si sta nascondendo Perché ha paura Ha paura di noi signori Ha paura di noi Guardalo Guarda Dai 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 Super colpo No Gli stavo a fare Super colpo Gli stavo a fare Super colpo Ora te lo faccio adesso Super colpo Ci mancherebbe altro Dai 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 Che siamo carichi Con il nostro Ben Siamo carichi Con il nostro Ben Dove sta? Dove sta? Fatti vedere Fatti vedere Fatti vedere Super colpo Tututututututututututututututututu Ma Ma Ben è troppo forte Ragazzi Ben mi piace troppo Ma mi piace troppo Ben Con queste Palline rimbalzose Spettacolare Dai 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 38 secondi, c'è ancora il 27% di vita Ha troppa vita, signori Dobbiamo farla fuori, dobbiamo farla fuori Dai, 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 dai Do stai, do stai, fatti vedere Fatti vedere, mannaggia, attento, stai Do stai 25%, 25% Io non so dove sono, non so dove sono Houston, Houston, non so dove sono, sono morto Dai, 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 14% di vita Dai, raga, non possiamo perdere, non possiamo perdere, raga Lo colpite? Lo colpite, mannaggia, a voi Dov'è? Dov'è, mannaggia, a voi Do stai, perché nessuno lo colpisce, perché nessuno lo colpisce Dai, che è morto, dai, che è morto Non ci posso credere Abbiamo perso per un 5% di vita Ma non ci posso credere Ma non ci posso credere Abbiamo perso per un 5% di vita Mannaggia Dai, abbiamo fatto un poco schifo Eh, va bene, dai Va bene così Raga, come dice il detto, non c'è due senza tre Non c'è due senza tre Facciamoci la terza partita Facciamoci la terza partita Non c'è due senza tre Pezzo grosso Oh, vabbè, il bullo Giochiamo contro il bullo Vittoria facile, raga Vittoria facile Il bullo è proprio Ignorante, nel senso È facilmente battibile Dai, è così Dove stai, bullo? Dove stai, bullo? Siamo già morti? Ah, ottimo Bella così Ottimo, ottimo Siamo già morti Praticamente Perché questi stanno scappando? Perché il tizio sta scappando? Deve combattere E il tizio scappa Si è nascosto qua Si è nascosto qua Dai, 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 dai Dai, dai Mannaggia Mamma mia Che ma Mi ha sciottato male Forte Dai così, dai, così, dai Così, dai, così Dove stiamo? Dove è? È lì, bullo? Dai, 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 dai Piazzalo, piazzalo Piazza un bel tiro Piazza un bel tiro Carica, carica, carica Dove è? Dove è? Dai Perché si devono nascondere? Siete veramente coraggiosi Non vi nascondete Mostriciattoli Dai, dai, dai Dai, dai, dai Colpiscilo, colpiscilo Dove? Dove, dove? Mamma mia Mi ha sciottato male Me la pensavo più facile Questa partita Signor di miei Di solito il bullo Con me È di una scassità inutile Dai, 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 dai Supercorpo, supercorpo Dai, dai, dai L'abbiamo centrato secondo me Col supercorpo Non lo so Però per ora li stiamo facendo male Questa cosa è buona Gli abbiamo fatto un poco male 50 Siamo a metà della sua vita Con 30 secondi alla fine della partita Porca miseria Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove stai? Dove sta? Ho sprecato il supercorpo Mannaggia lui Mannaggia lui Ho sprecato il supercorpo Dai, dai, dai Dai, dai, dai Bravo panda Colpiscilo Bravo panda Colpiscilo Dove? Guarda che si nasconde 18% Dai, 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 dai Dai, dai, dai Dai, dai Dai che è fatta raga Dai che è fatta Sono morto Dai che è fatta È fatta che sono morto praticamente Mannaggia loro Dai 12% 6, 5, 4 Niente Ne abbiamo perso 2 su 2 raga Pensavo che fosse più facile col bullo Abbiamo perso anche questa Mannaggia Una vittoria Una vittoria e due sconfitte È andata male È andata male E vabbè E il toro ci è riuscito a battere Mannaggia lui Comunque ragazzoli Detto questo Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao